Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati, vogliamo parlare del futuro di Gigi Donnarumma Gigi Donnarumma che nell'ultime ore sarebbe finito anche sotto i riflettori da parte del Real Madrid Real Madrid quindi che si sarebbe inserito nella corsa all'estremo portiere rosso nero vista la situazione contrattuale e visto lo scarso rendimento dei portieri di Real Madrid di questa stagione infatti il club madrileno non è convinto, le prestazioni che stanno offrendo i portieri di Real Madrid non sono entusiasmanti quindi Real Madrid si sta diciamo guardando attorno il Real Madrid qualche due anni fa ha acquistato tipo cultura da parte del Chelsea facendo un investimento molto importante ma dall'arrivo del portiere belga a Madrid il rendimento è stato piuttosto altalenante ha commesso vari errori e quindi Real Madrid che vuole sempre ogni anno allestire squadre molto competitive e molto forti ha visto in Donnarumma, ha visto l'età, ha visto il talento il possibile portiere a cui affidare la porta del Real Madrid quindi Real Madrid che si è inserito nella corsa per cercare di accapararsi Donnarumma ma Donnarumma che come sempre, vogliamo ribadirlo, vuole prima ascoltare i piani e i progetti del club il suo sogno, questo ve lo possiamo dire, sarebbe quello di giocare tutta la carriera in rosso nero però ha un patto, vuole avere attorno a sé una squadra molto molto competitiva giustamente visto il rendimento, visto il talento cristallino che Donnarumma ha Donnarumma che è sempre stato seguito anche dal Paris Saint Germain che gli ha fatto offerte negli scorsi anni molto importanti livelli di ingaggio ma Donnarumma ha sempre rifiutato questa opportunità perché il ragazzo in qualche maniera non ritiene il campionato francese, un campionato entusiasmante, un campionato ricco diciamo, essendo che il Paris Saint Germain domina la scena in Francia Donnarumma sì vincerebbe il campionato ma diciamo un campionato un po' sotto come livello rispetto al campionato italiano quindi Donnarumma vuole rimanere al Milan, vuole cercare di diventerne protagonista però se non dovesse lui trovare l'accordo in qualche modo più che economico in questo caso di progetto allora queste state lascerà il Milan Donnarumma interessa molto alle big diciamo europee tra cui il Manchester United che vuole sostituire anche lei De Gea De Gea che interesserà il Mad 2015 potrebbe essere un giro di portieri molto importante priorità al Milan, se non dovesse rinnovare col Milan quest'estate il giocatore verrà ceduto perché la prossima estate, quella del 30 giugno 2021, vedrà scadere il contratto di Gigio in rosso e nero quindi sia il Milan che i Gigio hanno già raggiunto un accordo verbale che il giocatore non andrà via scadenza per rispetto e per amore dei colori in rosso e neri eventualmente se non si dovesse trovare l'accordo tra le parti andrà via quest'estate la pista che noi ci sentiamo più accreditata in questo momento se Donnarumma dovesse decidere di lasciare il Milan è quella che porta all'estero quindi escludiamo totalmente un trasferimento diretto in Italia eventualmente alla Juventus ma diamo molto peso alla Real Madrid Real Madrid perché Mino Raio l'ha parlato nei mesi scorsi che un suo assistito finirà molto probabilmente a Real Madrid e questo ci auguriamo, speriamo che non sia Donnarumma noi tutti ci auguriamo che Donnarumma possa rinnovare il contratto con il Milan possa in qualche modo, noi sogniamo una carriera da bandiera da parte di Donnarumma però come vi ho sempre detto Donnarumma è combattuto tra sentimento e ambizione in Milan per trattenere Donnarumma più che una questione economica visto che comunque prende già uno stipendio molto alto per un portiere vuole un progetto ai suoi livelli un progetto ambizioso che vede in due, tre anni massimo vedere il Milan tornare competitivo in Europa questo è quanto ci risulta Real Madrid che potrebbe spingersi fino a un 40-45 milioni di euro il Milan che potrebbe anche rifiutare questa offerta ma solamente con il rinnovo di Gigi se no sarà cessione come sempre se vi è piaciuto questo video mettete mi piace condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera